Ok, ciao ragazzi, allora, innanzitutto, ho provato a fare la live, non mi rompete nei commenti... Allora, stavo dicendo non mi rompete nei commenti, però è successo questo, ci hanno cacciato. Grazie, ok, ciao. Ok, ciao. Ok. Ok. Cioè? Sì, sì, sì. Paradigma! 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 Siamo solo in due, non so! Squadra di terra, rapporto. Squadra in front by. Abbatteremo i soldi per quanto arriva in veri. Non per niente mi chiamano manare in challenger. Madonna! Paradigma! 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 Sì, però stai calma, l'evento inizia in venti secondi. Stiamo salendo, aiuto! Ah, ma tu lo guidi così il... Equipaggio dell'evento è così. Ah, ma ci sono... Ci sono anche altre persone qua. Sì, c'erano altri due. Che non c'entrano niente. Ok. Forse li ha giunti proprio perché il due non si poteva fare. Esatto. Vai! Si vola! Certo, trenta! Martina! Ma perché Martina? Ma perché Martina? E questa volta si vola sul serio? Oh, eccola lì! Ok, basta urlare però. Sistemi di armamento pronti. Dobbiamo aprirci un passaggio tra le rocce. Eh, non ti preoccupaci, pensiamo noi. Però tu non scassa. Ok, è meglio utilizzare le armi normali. Orco Giuda. No! Mannaggia loro, mannaggia. Guarda lì c'è l'isola di Fortnite. O che è sta roba? Guarda! Let's go! Let's go! Vai! Si va! Siamo cadendo nel loop! Madonna, che figata! È bellissimo! Ma è questo il loop? No, questa è l'isola. Eh, questa è l'isola, appunto, è l'loop. Rientro nella copertura. Avvio la discella. Vai, madò! Stiamo guidando! Cioè, lei guida però noi... Noi non siamo... Noi spariamo! Noi spariamo! Noi spariamo? Oh, wow! Quanto siamo figli! Wow! Wow! Ma noi siamo figli! Siamo sul messo! Eeeeeee! Che figata! Ok, però non basta. Resta poco tempo per colpire l'acceleratore. Liberatemi un passaggio. Eh, legenda! Credevo ci stessi pensando più. Sì, sì, sì! Non saranno un problema. Non appena capiremo come. Ci pensiamo noi. Come ha detto noi? Come ha detto noi? Oh, ma! Ah, devo fare queste cose, ok. Ci sono due carri armati che ci stanno a favore. Oh, vai! Che scherziano col piede! Stomp! Oh, apri questo! Apri questo! Apri questo! Paradigma! Non serve a niente paradigma! Paradigma ammazza tutti paradigma! Paradigma! Mi aspettavo fosse un po' più forte! Eh beh, io posso iniziare! Guarda che bastardi! No, vi distruggiamo pure la famiglia! Vi distruggiamo! Ma cosa volete farvi? Perfetto! Però, vai! Bisogna aprire pure questo! Perfetto! Oh! Urca! È quello! Noi dobbiamo distruggere quello! Ascia! Mary, tu pensa ai razzi o pensa a quello? Dov'è stato pensato a sparire il tasto? I razzi sono stato molto veloci! Abbattiamo due vicini! Ma mi sa che dobbiamo abbattere pure i dirigibili a me! Eh! Oh no! Vabbè! Io lo sapevo, guarda! Io lo sapevo! Ma è male nel 70, ok? È normale! Auto-esplosione! Mi ricevi! Mi ricevi! Ricevuto! Ci hanno battuti! Tutti i sistemi danneggiati! Non andremo lontano senza riparazioni! Tranquillo! So chi chiamare! È il tuo momento avvivo! Chi è? Chi? Un altro deserto! C'è sto qua! Banalisa! 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 Vabbè lo snurpo però non vale! Vabbè ma tanto chi farà meglio... Viene a potenza interessa recupero di pregenza! Non posso credere che attenzioni! Forza Banalisa! Vai Bananido! Ma Bananido è troppo! Siamo tornati operativi! Ok! Iniziamo ad ammazzere quelli! Oh! Te va a spazio! Vermo! Acceleratore sta caricando! Presto! Oh! 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 Destro! 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 Abbiamo fatto! Malina! Attacco coordinato! Che è stata una meraviglia! Let's go! Let's go! Abbiamo eliminato gli scoti! L'acceleratore ha scoperto! Stiamo andando! Let's go! Uh! È giustamente... Di spada! Vai! Io penso ai dirigibili! Concentrati sulle forze di terra! Forze di terra! La mani forza di terra ha detto! Sì! La sigara armatica è stata in basso! È giusto! È giusto! È giusto! È giusto! E poi che fai? Vai! 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 Vai spada! Sei qui! È giusto! Un momento! Un momento! È funzione! È funzione! È funzione! di vederci ciao ah stai vai sei qui Johnson che Johnson è esperto infatti è proprio imbecilla sconto ciao guarda io sono bananita non mi interessa tanto danno non me ne fa vi fate tanto ma tanto io non muoio ma io sono invincibile eh scusate mi da fastidio c'è il punto zero dopo il cristallicino nel generatore sarà la fine di tutto oh che scappiamo siamo quasi cosa scappiamo adesso nessuno suono a fatti che le dinamiche non sono eliminati finito io mi muovo che te bozza non è una cosa si diamo diamo grande fondazione metti asciutto ma che ci sono questi da trovare le cose che ci sono che ci sono che ci sono che ci sono poi Non devi farlo! Non devi farlo! Il solito non lo tratta. Quali sono le tue parole, Jones? Le due! Occhio per occhio, dente per dente. Pensiamo che forse cosa arriva per me. È tornata per l'arrivo. L'arrivo per l'arrivo. Chi sarebbe? Il punto zero è concentrato su G2. Ah, G2. Questa è la nostra attesa. Andiamo, andiamo! Ok, ora, ora! Non abbiamo tempo. Quei cristalli faranno esplodere il punto zero. Distruggere, Marito! Penso a un altro! Penso a un altro! Un altro! Ok! Ok! Ben, ben! Nice! Ben, ben, ben! Ok, abbiamo distrutto acceleratura. Ok, ok. Ci penso a te. Grazie Paradigma, grazie, ti vogliamo bene Andiamo a piacere, andiamo a piacere Gera ti prendo sotto casa No, non è finita così No, è finita, sì, brutto, continua Che cosa brutta, che cosa brutta Capito? Un funghetto, Geno ti prendi, ti vengo sotto casa, Geno Mannaggia Geno, mannaggia Allora, semmai avvio la live e iniziamo a fare le nostre teorie Ragazzi, l'evento finisce qui